Gli spazi della mostra d'oltremare si trasformano fino a metà settembre in una gorà dello sport. Nasce Palextra, un progetto che consentirà ai ragazzi della città di praticare gratuitamente attività sportive su un'area attrezzata di 12.000 metri quadrati. A renderlo possibile sono 11 campioni napoletani che dal 2012 animano l'associazione Mille Culure guidata da Diego Chiuzzi e che grazie al sostegno del Comune, della Curia e al contributo della Fondazione Conil Sud vogliono esaltare i veri valori dello sport. Quest'anno da ora fino a settembre e per tre anni sarà possibile praticare lo sport, qualunque tipo di sport, all'interno della mostra d'oltremare, in questo villaggio Mille Culure che in realtà a me inorgoglisce particolarmente perché questo è il vero motivo della nostra associazione, quello di dare la possibilità a tutti quanti di fare sport, di non avere differenze sociali, di non avere differenze di nessun tipo. Palextra è un villaggio aperto a tutti, soprattutto ai giovani con difficoltà fisiche o economiche che difficilmente riuscirebbero a dedicarsi ad attività sportive. L'iniziativa coinvolgerà circa 20.000 ragazzi in 20 discipline diverse con una programmazione che arriva a settembre 2018 e si arricchisce di eventi, seminari e attività formative. Qui alla mostra d'oltremare, il comune, Mille Culure, tante fondazioni, tante associazioni, veramente un gioco di squadra per tutta l'estate, per tre anni, sport, cultura, musica, informazione, prevenzione, aggregazione, tutto gratuito, quindi soprattutto indirizzato alle fasce deboli, ai più bisognosi, quest'estate si può stare qui a fare sport. Grazie. 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 Grazie.